Stiamo regalando un ovetto che è una cosa simbolica, però è una cosa che per i bambini è tanto, è tantissimo. Abbiamo cominciato questo giro, abbiamo iniziato da questa zona, siamo nella villetta Rina, domani riprenderemo, ci stiamo organizzando meglio in modo tale da fare venire più bambini e li omaggeremo. Deve essere una buona Pasqua per tutti, anche per i bambini e a volte basta un piccolo gesto per farli felici. Partinico necessita tantissimo di servizi, sente molto il bisogno di avere l'istituzione vicina, noi in questo stiamo lavorando, stiamo cercando anche di reperire dei finanziamenti per creare nuovi servizi, organizzare al meglio le risorse che già sono esistenti e l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello intanto di stare vicino alle famiglie che hanno tantissimo bisogno di non essere lasciate sole. L'obiettivo di questa amministrazione è valorizzare e attenzionare le periferie del Paese, per noi non facciamo alcuna differenza tra centro storico e chi vive in periferia. Anche oggi è un simbolo, omaggiare i bambini di questa zona, le uova Pasquale, l'abbiamo fatto già a Natale con dei panettoncini, è un modo come l'altro per dire che l'amministrazione è presente, sempre e comunque. Adesso stiamo cercando di desespugliare e bonificare tutte le villette che ci sono nelle zone periferiche e rendere fruibili per i tanti bambini che ci vivono. Oggi sono veramente contento di questa bellissima giornata, vedere le facce dei bambini, prima inizialmente stupiti e poi sorridenti, veramente riempie il cuore di gioia. Con grande orgoglio comunico che ripeteremo periodicamente queste iniziative che sono assolutamente importanti per il nostro territorio.